calegnaia 15 di settembre 2019 una bella giornata di sole e di mare mare calmo sole c'era ma si vedeva pochino perché c'erano altre velature in quota che un po' lo tappavano poi via via la situazione è andata peggiorando è diventato un po' nuvoloso ma comunque diciamo sul mare ci stava proprio bene l'acqua era ghiaccina e ci voleva la tuta scuolti con quella ci stava proprio bene un saluto ciao 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 ciao